Bella a tutti ragazzi, sono G2027 e siamo qui in questo nuovissimo video su GTA 5 Online Oggi proviamo le nuove gare che sono uscite l'altro giorno su GTA Online Oggi non sono da solo, sono qua con due compagni, i miei compagni di squadra, bracciola e martello Bobba ragazzi! Buongiorno ragazzi! Eccoli! Oh! Marti inizia già la ritacchiando A tronarci tutti! Oh! Piano piano! Allora, sentiamo ragazzi! Lo sento già che ritacchia, Marti, va bene Ma che cavolo è di gara, aiuto! Occhio, occhio, occhio! E' bellissima, a me piace Ma perché so prima? E io so... Guardalo! E qua, Marti, no, mi stai superando? Eh, siamo qui, oggi è il momento, se infatti Oggi è il momento... Eccolo! E' il momento di frellare! Vieni qui, guardalo! Diciamo che... Oh, esco! Aiuto! Fatti un tuffettino! E come si fa? Eccoci, non mi ricordo anche più come si gioca Io intendo me lo svegno Andiamo, andiamo, andiamo Occhio, occhio, eh... Dove sta braccio? Sta avanti? Oh, sei prima posizione, braccio, istruzione Che bello! Andiamo, andiamo! Occuperatemi! Sono primo, non c'è nessuno davanti a me Come? È primo? Non c'è nessuno davanti a me! Ma il problema è che non è anche dietro Ma ho troppo l'antica! Ma ho troppo l'antica! Ma ho troppo l'antica! Eh, guarda nel fondo, è proprio... Siamo pochi, dopo vediamo se riusciamo a trovare una sessione un po'... Ho tornato il suvino, ma... Ho tornato il suvino, vabbè... Ho tornato l'antica! Eh, io sono troppo avanti, eh... Eh, Marti è il primo di primi, porca miseria, eh... Sì, sì, infatti... Eh, comprimenti, eh... Beh, però è facile, dai... Grazie, grazie... È un cavolo di GP, la prima gara... Eh, infatti, è proprio un cavolo... Eh, dai, questo qua... È di riscald... Wow, un nuovo giro, più veloce! Occhio! Ed è un sacco di tempo che non faccio i giro più veloci del mondo... Eh, anche io, infatti... Occhio che sta arrivando, bravo, bravo... Braccio... Braccio è già avanti! Sì, anch'io! Vabbè, ma Marti... Marti, proprio, non lo possiamo battere... Cioè, Marti è più difficile... No, ma è impossibile da Marti... E poi è di fuori difficile, eh... Essere ultimo è impossibile... Aspetta, aspetta... Batte per un ultimo, eh... Impossibile... Siamo se riusciamo... Eh, io sono terzo... Guarda, dove vada, signor Marti? Ah, che io sono... Io no, io sono primo... Ah, eh... No, però anche Braccio è prima! Sono primo, non lo so, sono primo... Sì, c'è qualcuno che va in senso... Una domanda per lei, Marti? Sì, mi dica, Bracciola... Eh, ma come si fa ad essere così utili? Eh... Ma è difficile... Ah, questa è una bella domanda... Ok, ok, ok... È una tecnica che non svelerò mai... Eh, no, Marti non svela le tecniche... No... Ah... Si dice niente, proprio... E altrimenti servono tutti utili... Infatti, sennò... Sennò che io sarei fatti... Eh, io sarei primo, poi, alla fine... Eh... È male, è così... Eh... Uh... Uh... Ma occhio... C'è un trullone maledetto, attenzione! Dove? Oh, guarda lì, guarda lì... Mi ha fatto parte di questa cosa... Eh, attenzione... È azzurro, è giuro... Eh, no, è... Allarme, allarme... È colore pork... È colore pork... Allarme, allarme rosso... Oh, 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 oh... Oh, Wolf... Vieni qua... Oh, guarda il braccio... C'è che copre il braccio a me... Andiamo... Eh, ho qua... Ok... Seconda funzione... Mamma mia... Io non ho detto che sei l'ultima, braccio... Io ce l'ho detto... Ecco, ecco Marti... Guardalo, guardalo... Guarda, guarda... C'è uno davanti a me... Aspettate... Oh, riesce a concludere comunque... Uh... Nonostante tutto riesce a concludere... Oltre tutto... Guardalo... Uhuh... Attenzione... Eh... Eh... Visto che bravo... Eh... Lo sapevo io che... Mamma mia... Eh... Seconda gara... Eccoci... Oh... Dove state? Dove siete? Eccoci... Ah... Io parto l'ultimo... Ma... Non è giusto... Io sono in seconda fila... Ah... C'è Marti davanti a me... Eh... C'è Marti... È facile usare l'altra moto... Eh... Eh... Guarda Marti che lento... Guardalo... Eh... Una moto lentissima... Ma è già primo Marti adesso... Eh... Sì... 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 Andiamo... Vai... Vai... Aspettate... Oh... Mamma mia... Invenzione... 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 Oh... Che miseria ragazzi... Ok... Andiamo... 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 Benissimo... Benissimo... Che bello... Si vengono... Attenzione... Oh... Guarda lì... Ok... Ci siamo... Siamo tutti vicini... Guarda... Eh... Siamo tutti vicini infatti... Ciao... È bello... Siamo tutti vicini... Eh... Che bello... Oh è qua... Ma... 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 Tutti... Yes... Tutti sti anche in qua... Che brutta... Oh... Attenzione... C'ha le... C'ha le curve strette... Eh... Eh... Sì... È molto strette... È facile... Porca miseria... Questa cara... Con le moto... Non sono abituata... Sì... Io sto stravincendo... Eh... Vi avviso che io sono... Eh... Sai che io sono seconda... Ma io sono primo... Ma questo si sa... Allora... Sono sempre primo io... E il 7 è girato al contrario... Potrebbe essere un primo... Con fantasia... Eh... Più o meno... Eh... Molta fantasia... Eh... Oppure... Metti giù... Un po' la sbarretta del 7... Eh... È così facile... Guarda... E dove sta a braccio? Con me c'è... C'è Torondo con me... Torondo... Torondo... Dove sei Torondo? No... È come Emilio... È Emilio Torondo... Ah... Dove è Emilio? È lui Torondo... È Emilio... Andiamo... Lui... Lui... Torondo... Eccolo... C'è Marti... C'era Marti... Attenzione... Eh... Ma io ho fatto il secondo giro già eh... Ragazzi... Eh... Marti già avanti eh... Bravo... 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 Ma insomma... Che lentezza... Ok... Giro pulito intanto ho fatto eh... E' con me Torondo... E' con me Torondo... E' con me Torondo... Oh... Spingo le suini... Oh... Spingo le suini... E' con me Torondo... Molto... Il Torondo è un combattente... Qua è... Eh... Lo so come Emilio... Emilio... Ma dove è sto Emilio? Eh... Ma è Torondo... occhio guarda lì come è corno eh sono cresciti eh tutti con il shotaro però non è giusto siamo tutti i cresciti forse era meglio da shotaro eh era meglio da shotaro forse oh va tutto contro un paletto ah ottimo posizione di braccio attenzione che arrivo eh attenzione che arrivo occhio competizione contro l'ondo guarda io sono sempre presente toronto qua eh toronto è il massimo toronto sei il massimo è pure questa pure questa bisogna vincere è quasi finita è quasi finita bisogna correre toronto vai 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 è il volto della fine no no aspettando che non so non so che poi se ne sono arrivato ma anche io sono arrivato al terzo il miglior giro che l'ha fatto mio la sottoscritta ci sono ci abbiamo fatto a tutti eccoci qui terza gara è un po' noturna eh adesso è un po' noturna la gara allora come siamo messi oh parte secondo voi io dietro al primo è meglio che giorno anche il primo il primo fermo bautista è fermo guarda attenzione che succede che sta roba qua che spettacolo bellissimo non ci capito niente stupendissimo quanti siamo io sono quinto quarto terzo secondo primo il mio primo e io sapevo di essere il primo eh ma ovvio che il primo martin sei per primo c'è qualcuno dietro di me si io no perché sono davanti ecco guardali come volano tutti vedi ciao dove sei dito di te ma sei tu chi è tripe ma ti ho detto oh fredore vale ma che non fredono più fredore nooo ho fredato e mi son fermato proprio oh e tu che vuoi aiuto aiuto mi stanno mi sta guarda ancora questo qua con le luci viola mi hanno buttato il cuore chi è che è una luci viola? è questo qua il primo non va è venuto fuori ma no c'è l'è rosa c'è l'è rosa mica più è venuto fuori guarda qua è solo un po' con il vetro e colpi viola andiamo giù wow guarda che bello attenzione ma che è successo ma che visuale è? che visuale è? non si capì? ahhh aiuto non stiamo porca che è successo? ma che visuale era? che roba è questa? che visuale è strana hai visto? eeeh va tutto strano eeeh andiamo uh che bel capitolo sono soddisfatta di queste gare guarda questi due vabbè che stai aspetto aiuto non ci capisco niente oh yes eric qua bello che giù co diverte imiooo dove sta emilio? io sono in loco con emilio in mezzo aspettate questi qua si parla noi botti perché non c'è emilio il braccio usi qua è aggressivo ho superato che botta ma adesso è semplice ma le gare delle officer ma io sto gareggiando con questo tizio oh vai avanti tu Ok Ok Ma sto volando Aiuto sto volando Attenzione Occhio Volevo fare flip Guarda il braccio qua Vieni qui No Questa è bella Sì Bellissima Magnifico Sono soddisfatta che la Rockstar Abbia fatto questi Capolavori Più meno perchè le gare sono sempre quelle facili Oh Io sono già al cazzo giro Porca Io sono già al cazzo giro Ma non esiste il terzo giro Eh ma per me si Parti avanti E anche io sto aspettando voi Ma è che sei per cazzo al 27esimo giro vero No Sì 23esimo No siccome sto aspettando voi Mi faccio fare un altro giro no? E per adesso ci sta Ci sta ancora questo Per adesso corri Per correre ci sta ancora questo Ho appiccicato questo Deve correre Aaaaaaah Io comunque se per numero 1 Eh? Se tiri sulla staglietta viene 7 Eh? Devi photoshopare il 7 Oh yes Devi photoshopare il 7 Oh no Aspettate se riesco a fare il trick Oh no Che Dio Che Straspettuale Oh Braccia paliccinelle Vabbè Vabbè Ma porca No È stata fallita Ma che bello Ma siete ancora lì? Io ho già finito eh Ma porca Io ho già finito Sì Oh no Che è schifo Sono guinta Ma che è schifo Sono guinta Guarda Eh io sono ben avanti Faccio schifo Mamma mia Io sono ben avanti Ma che occhio 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 Questo mi piace Qualcuno che fa Incidenti europei barri no? No è qua Dove recuperare Qua davanti sono proprio Piano 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 Ma porca miseria Wow Guardalo Ma no Ci siamo Guardalo Almeno Ecco Qua c'è Velozina Emilio Come sei? Chi è che vola qua? C'è gente che vola qua Come è sottore? Eh oh C'è qualcuno che ha fatto incidenti E sono terza Guarda Si è trollato Il secondo Oh è privi di nuovo Dove dove Piano 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 canale Ma C'è Activa Di Piano 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 Agile